I gruppi di Cuccheri dalla Bulgaria, Lancavavas dalla Slovenia e Dondolasi dalla Croazia parteciperanno al tredicesimo raduro internazionale delle maschere antropologiche a Tricarico nel Materano il 31 maggio e il 1 di giugno, in due giornate di celebrazione dell'arte e della cultura. Gli organizzatori hanno evidenziato che i gruppi di maschere presenti includono una vasta gamma di tradizioni e culture provenienti da diversi parti d'Italia e del mondo. Tra queste ci sono il Carnevale di Mister Bianco dalla Sicilia, i Poloncenelle dalla Calabria, il Carnevale degli Zanni e la Parata Storica dell'Abruzzo, Saemunio Erradore e Samaschera a Gattu della Sardegna, la Scasada degli Zerenù, i Gioppini Brighella e Rataplam dalla Lombardia e ancora il Diavolo dal Molise, la Farsa Carnevalesca di Eboli, il Carnevalone da Montescaglioso, l'Ursi, i Domeni di Lavello, la Danza dei Falcetti di Episcopia, i Pedrillo di Irsina, oltre a Ferrandina e Salandra, Teora dalla provincia di Avellino e infine i padroni di casa alla Maschera di Tricarico. E' inoltre prevista la sfilata a trame d'epoca e il corteo dei 131 abiti lucani solitamente ospitati nel Museo delle Gentilucane di Tricarico che saranno indossati da ragazzi e ragazze dei luoghi di origine dei vari vestiti.